Se ti dai da fare, se vai dritto per la tua strada e hai un obiettivo chiaro e dai il 110%, ci puoi mettere più di qualcun altro, ti servirà del tempo, tanto tempo, sì, ma i risultati arrivano. Lo sai qual è il problema? È che la gente, esattamente come la palestra o la dieta, la fa per un mese, per due mesi, per tre mesi, per sei mesi e poi la lascia. E poi devi ricominciare da capo. E magari la lascia proprio quando stava per arrivare a dei risultati. Domenico dice, sei un dipendente, ascolti Marco che ti dice che oltre una certa soglia puoi risparmiare. Le spese a un certo punto non le puoi più comprimere, è vero? Altrimenti che fai? Cominci a non avere più cibo a tavola, cominci a vivere una vita e far vivere una vita a tue figlie, alla tua famiglia. Terribile, non le puoi comprimere le spese. E quindi, allora aumenta le tue entrate, lavora sulle tue entrate. Cosa può fare un dipendente full time con famiglia? Concretamente. Allora Domenico, ti faccio una prima domanda. Ma tu sei obbligato a rimanere nel tuo lavoro da dipendente? Cioè tu devi morire nel lavoro che stai facendo adesso? Perché se mi stai chiedendo questo è evidente che il tuo lavoro non ti dà il reddito che vuoi. Perché evidentemente hai compresso le spese, ma il tasso di risparmio magari non c'è, non riesci a risparmiare, e perché il tuo reddito è basso. Ok. Ti do varie soluzioni. Rimanere nel lavoro in cui sei, studiare, riposizionarti per cercare di fare carriera interna. Non so che cosa fai Domenico, quindi magari questo consiglio non è applicabile. Però la prima cosa che mi verrebbe da dire, quella con il rischio più basso, è mettiti da qui ai prossimi tre anni a studiare qualcosa, magari a prendere la laurea che non hai, o magari a fare un master, o magari a studiare nuove tecniche che fanno parte del tuo lavoro e che ti rendono più indispensabile per l'azienda. A quel punto tu andrai prima dal tuo capo a chiedergli, a dirgli, guarda, mio capo, sto avviando un percorso perché io in questa azienda voglio crescere, voglio crescere, voglio dare di più e voglio ottenere anche di più. Quindi farò questo percorso, ci rivediamo tra due anni, tra tre anni. Magari lo aggiorni durante questi tre anni, torni da lui dopo questo percorso, ovviamente hai condiviso con lui il percorso che vuoi fare e lui magari ti ha detto, guarda, non fare questo, fai quest'altra cosa perché non serve a niente nell'azienda che tu faccia questo. Quindi devi essere allineato alle vere esigenze dell'azienda. E magari a quel punto, a quel punto dopo aver investito tempo, dopo che ti sei fatto il mazzo, come si dice, per l'azienda varrai di più e quindi magari riuscirei a ottenere un ruolo diverso, un ruolo più alto e magari anche un aumento di stipendio. La prima cosa che puoi fare. La seconda, immagina che tu mi dica, no Marco, è impossibile, nel mio lavoro non sono apprezzato, nel mio lavoro non posso fare carriera, nel mio lavoro così sono entrato e così morirò. E io quello che ti direi è, perché devi morire in quel modo? Perché se stai facendo un lavoro che non ti dà soddisfazione personale ed economica, che non ti riconosce quello che vali, perché ci stai dentro? Adoperati per cercare un'alternativa, per cercare un altro lavoro. Eh ma nel mio paesino, io vivo in un paese piccolo, non ci sono tante spostati di città. Quante persone se ne vanno dal paesino? Ragazzi, cambiare vuol dire prendere delle azioni e prendere delle azioni che a volte sono anche difficili, ma se fate sempre le stesse cose, se rimanete sempre nella vostra zona di comfort, otterrete sempre le stesse cose. Quindi smettete di lamentarvi. O accettate il fatto, no, io non voglio cambiare lavoro perché questo è il lavoro sicuro, ma che sto scemo che lo cambio. No, vabbè, non voglio cambiare città perché, ma che si amate, io sto bene qui, c'ho la casa, c'ho la mia famiglia, c'ho i miei amici, c'ho tutto quanto qui che cambio, questo pazzo, che ne so che succede se vado da un'altra parte, magari mi trovo male. Vabbè, e allora fate pace con voi stessi, accettate queste scelte perché queste sono delle scelte. Molte persone dicono di non avere la vita che vogliono, non avere il lavoro che vogliono, non avere lo stipendio che vogliono, ma la verità è che non possono far nulla, ma la verità è che stanno prendendo delle scelte, delle decisioni. Queste sono decisioni, non prendere delle decisioni, è una decisione essa stessa. Ti ho detto due modi, te ne do altri di modi. Oggi c'è una cosa che si chiama internet. Internet oggi ci permette tanti business, tanti business che possiamo fare anche se siamo dipendenti, devi andare a vedere il tuo contratto, devi andare a vedere le clausole, quindi vatti ad informare bene. Però se è un, se ti crei una, un lavoretto al di fuori, che potrebbe anche essere, ti faccio una stupidaggine, ti dico una stupidaggine adesso, un lavoro manuale. Oggi i lavori manuali sono tanto richiesti, il pittore, e magari cominci a spargere la voce che fai quello, quindi è un lavoro fisico, non c'è niente di online. Oppure se vogliamo andare sull'online, oggi ci sono tanti modi, ci sono i social, uno si costruisce la propria nicchia e comincia a capire bene in quella nicchia che magari è una tua passione, che gap ci stanno e comincia a proporre un servizio e un prodotto, si costruisce col tempo questa cosa e ci vogliono anni per farla. E se tu mi dici, eh Marco, ma io questo mondo non lo conosco, c'è problema, studia. Lavorerai, se c'è un lavoro da dipendente, quanto lavori? Otto ore al giorno, immagino, no? Quindi vuol dire che c'hai un sacco di tempo. Eh, ma c'ho la famiglia, c'ho... fa niente. Quando i bambini vanno a dormire, ti metti a studiare. Io, quando i miei amici, il giovedì sera, il venerdì sera e il sabato sera uscivano tutti questi giorni di tutte le settimane, io non è che non uscivo, uscivo alcune volte, ma altre volte io rimanevo a casa. Io sono stati un sacco di weekend che a 20 anni, 21 anni, 22 anni, ai miei amici ho detto di no. Ho detto di no, rimango a casa, devo studiare, devo... ho un percorso, ho degli obiettivi da fare. Mi diverto, cioè, mi sono divertito? Sì. Mi sarei potuto divertire di più? Sì. A che prezzo mi sarei potuto divertire di più? Cioè, per fare qualche uscita in più avrei magari ottenuto molto di meno sulla strada, sul percorso che avevo fatto. Quindi, Domenico, ci sono tante cose che si possono fare oggi e bisogna darsi da fare. È faticoso. Sì, è faticoso. Ci sono situazioni in cui è ancora più difficile e faticoso riuscire ad ottenere qualcosa in più. Lo so. Alcuni sono più fortunati di altri per il percorso, per il tipo di famiglia, per la città in cui vivono, e altri si devono dare da fare di più. È così. È la vita. La vita è ingiusta. La vita non è democratica e non è giusta. Però, una cosa, la vita, almeno a me e quelli che mi stanno intorno, l'ho vista e me l'ha insegnata. Se ti dai da fare, se vai dritto per la tua strada e hai un obiettivo chiaro e dai il 110%, ci puoi mettere più di qualcun altro, ti servirà del tempo, tanto tempo, sì, ma i risultati arrivano. Lo sai qual è il problema? È che la gente, esattamente come la palestra o la dieta, la fa per un mese, per due mesi, per tre mesi, per sei mesi, e poi la lascia. E poi deve ricominciare da capo. E magari la lascia proprio quando stava per arrivare a dei risultati. Questa è la risposta che ti do, Domenico. Purtroppo non è una risposta... è una risposta che a volte la gente non vuole accettare. Però è l'unica cosa che ti posso dire. Io non conosco altri metodi.